Le novità riguardano da una parte l'allargamento geografico del festival perché quest'anno oltre la consueta settimana a Castrovilla rifaremo un prologo a Catanzaro e quindi insomma una nuova scommessa con un nuovo territorio e siamo molto contenti di questo, dall'altra parte un allargamento dal punto di vista anche dei linguaggi e dei contenuti perché iniziamo a programmare anche non solo del teatro ma anche della danza, delle arti performative, ci saranno degli artisti molto importanti che diciamo da Roma in giù è molto molto difficile vedere, per cui insomma un'edizione che è una scommessa soprattutto specie dopo il fermo dello scorso anno, quest'anno ritorniamo con tante tante aspettative e con un nuovo entusiasmo legato anche a questa scommessa per un nuovo territorio. Novità anche per quanto riguarda i temi perché appunto specie la programmazione di Catanzaro molto radicale nel senso che abbiamo voluto, io dico sempre, un po' entrare a gamba tesa dal punto di vista artistico in città perché vorremmo che si discutesse intorno ai temi degli spettacoli, parleremo di dalla transessualità alle questioni di genere, ci saranno degli spettacoli dove per esempio non ci sarà l'uso della parola nonostante sia teatro, quindi sia nei contenuti che nei linguaggi una scommessa che è rivolta specie alle fasce giovani quindi insomma spero che ci sia una bella risposta perché credo che sia anche una buona occasione per Catanzaro io dico spesso venite a vedere perché comunque potrete uscire dalla sala dicendo non è esattamente il mio genere però ho visto qualcosa. Una programmazione con tre spettacoli internazionali, quindi un collettivo catalano che in questo momento è molto molto in giro per tutto il mondo, si chiama Il Conde di Torrefil una performer brasiliana che è questa di cui parlavo prima, che si definisce una antropologa della transessualità e poi una performer argentina che viene per la prima volta in Italia e che credo farà molta molta strada e poi c'erano tre spettacoli di danza sulla nuova danza italiana Castro Villari, la consueta settimana di teatro, tantissime prime nazionali, tanti tanti artisti giovani e non solo che insomma faranno quella settimana dal 30 al 6 di ottobre. Sono felicissima, ognuno di noi pensa di poter fare all'inizio delle cose importanti tra le tre cose che volevo fare all'inizio il mio assessorato era portare Primavera dei teatri a Catanzaro quindi sono molto felice di questo perché è un'esperienza interessantissima che io ho già seguito perché il teatro contemporaneo è un fatto su cui la città deve investire e perché è una bella esperienza anche che unisce la Calabria noi siamo il capologo di regione e dobbiamo avere anche questa funzione cercare di trovare le energie migliori e metterle a sistema se ci riusciamo ovviamente devo dire che anche con l'organizzazione non solo questa io ho provato avendo anche la delega all'università ad esempio di trovare il modo di coinvolgere gli studenti universitari anche attraverso, ora anticipo un po' una cosa attraverso una scontistica perché è chiaro che gli studenti soprattutto in questo periodo che sarà durissimo per le famiglie dovranno essere incentivate poi ovviamente c'è il tema più significativo di mettere a sistema anche i teatri ora vediamo con l'agenda urbana cosa succederà anche col teatro Maceri credo che l'organizzazione dei teatri sia importante e anche delle stagioni teatrali come ho già detto in altre occasioni per me è importante la progettazione ma anche la programmazione in questa città spesso ci sono o vuoti totali o sovrapposizioni di eventi ecco io spero insomma di contribuire a mettere a sistema un po' anche l'offerta culturale e quindi anche teatrale della città beh noi abbiamo avviato anche un nuovo percorso per programmare ogni anno auspicabilmente anche con le risorse finanziarie disponibili un festival del teatro calabrese lo faremo a settembre ovviamente poi di questo ne parleremo in un'occasione specifica c'è questa bella collaborazione con Primavera dei Teatri già qualche anno fa c'era stata anche una presentazione a Catanzaro al Teatro Politeama con Saverio Laruina e Dario che sono gli animatori assieme a Settimio Pisano che è il nostro conterraneo di questa rassegna teatrale che voi sapete ha un'importanza a livello nazionale con tutta una serie di anteprime di teatro d'avanguardia di teatro sperimentale quindi Castrovillari è un elemento importante nella programmazione teatrale regionale aver creato questo gemellaccio, chiamiamola così, questa collaborazione fa in modo che anche una prima parte, chiamiamola il prologo della rassegna Primavera dei Teatri si svolgerà a Catanzaro, si svolgerà a Catanzaro, al Teatro Politeama quindi ovviamente noi speriamo che da questi primi approcci, da queste prime collaborazioni poi possano nascere anche delle iniziative ancora più importanti Voi sapete che noi avevamo avviato dei laboratori teatrali al Politeama con un grande regista come Mauro Avvocatro poi il Covid ha interrotto questo avvio di laboratori teatrali, di stage, di seminari contiamo di ripetere le esperienze, certamente con Scena Verticale questa collaborazione porterà ulteriori frutti questa della creazione di una scuola teatrale, ma io vado oltre, di una compagnia teatrale è giunto il momento in cui anche il Teatro Politeama deve avere una compagnia teatrale oppure anche delle compagnie residenti all'interno del Teatro e quindi da queste sinergie probabilmente usciranno belle cose per la Fondazione Politeama